Abbiamo quindi come primo relatore di questa mattina il professor Giuseppe Lanci e abbiamo qui in Gregoriana un grande protagonista della storia del cinema italiano, potremmo dire senza offesa un vero e proprio monumento, perché in qualità di direttore della fotografia ha lavorato con i maggiori registi del nostro paese, collaboratore prediletto di maestri come Marco Bellocchio, Nanni Moretti, i fratelli taviani e non sono i protagonisti di una grande stagione del cinema italiano, ma ha lavorato anche con Sergio Leone, Pasolini, Cavani, Fellini, La Fontrotta. Alcuni dei suoi film sono impressi nella memoria collettiva, penso al complicato intrigo di donne, vicoli e delitti della Wirtmüller che gli valse anche un David di Donatello, altri invece sono opere di culto per gli appassionati di cinema, come La Nostalgia o Nostalgia non ho mai capito bene, di Tarkovsky, capolavoro assoluto. Ecco, una curiosità, è stato il direttore di fotografia che ha partecipato al più grande numero di adattamenti cinematografici delle opere di Luigi Perandelli. E non mi metto a enumerare i suoi tantissimi premi, le grolle, i globi, eccetera, una vita artistica densa di esperienze variegate, molteplici, dove però c'è stato anche uno spazio molto importante per l'insegnamento. Corsi, seminari e lezioni in varie istituzioni, dal 2014, è docente responsabile del corso di fotografia presso la Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia e ci parlerà della luce come emozione. Grazie a lei la parola. Per spiegare il mio lavoro dobbiamo sintetizzare un poco, perché è abbastanza complesso quale sono, qual è la mia funzione, o la funzione degli autori della fotografia, come si chiamano oggi, io riesco sempre la vecchia dizione direttore della fotografia. Il lavoro, il nostro lavoro è una trasposizione, proprio vogliamo sensibilizzare, trasposizione di immagini di ciò che è scritto nella sceneggiatura, cioè rendere visibili le emozioni, tutta la parte emotiva che sta scritta nelle righe della sceneggiatura. Ovviamente ogni film ha delle esigenze completamente diverse, quindi dobbiamo essere capaci di interpretare lo scritto e riuscire a dare un tipo di fotografia che, secondo me, è sempre differente a seconda dei film che dobbiamo fare. La parte tecnica del nostro lavoro è una base acquisita da quasi tutti gli autori della fotografia. Quello che ci differenzia completamente sicuramente è la capacità di avvicinarsi il più possibile al progetto. Cioè, quindi, diciamo, io penso che una dote, la dote più importante è la sensibilità e poi viene la dutilità, quello di sapere adottarsi a ogni tipo di progenza. Quindi il nostro contributo comincia da quando incontriamo i registi, in genere l'incontro avviene sempre, ci arriva prima una sceneggiatura, una telefonata, chiaramente, se uno è disponibile a fare il film e poi ci danno la sceneggiatura da leggere. La prima cosa importante è la lettura, attenta, profonda, con una serie di appunti sulla sceneggiatura per poter entrare il più possibile nel progetto ed avere le prime sensazioni che questo scritto comunica. Dopodiché ci sono sicuramente i colloqui con il regista per approfondire e trovare la chiave fotografica necessaria per il film. Se possiamo fare un esempio con il film di Tarkovski e poi vedremo alcuni due brani, c'è il discorso con Andrei, questo regista, io avevo visto Andrei Lublioff, quindi quando mi arrivò una telefonata per dire che Tarkovski mi voleva incontrare, insomma, mi sono un po', come dire, mi sono seduto, e vabbè, siamo visti a Piazza Laona, abbiamo preso un tè. Prima di me il lavoro di Tarkovski è stato quello solo di conoscermi, di capire che tipo di persona ero e se sarei stato disponibile proprio interamente, completamente a fare il suo film. Quindi siamo andati in giro, abbiamo fatto dei suoi valori, non c'è stato quasi un discorso fotografico preciso, nel senso non è che mi ha detto che questi sono i film a cui dobbiamo fare riferimento, queste sono immagini. È stato un lavoro di conoscenza, quindi c'è stata una lunghissima preparazione al film, io sono stato completamente a disposizione sua e in quel periodo sono entrato completamente all'interno del progetto. Sono state alcune richieste tecniche, ovviamente, poi vedete, anche se qui la proiezione chiaramente sono pennette, passare da DVD che già hanno delle informazioni non ottimali. La richiesta è stata quella di avere un film monocromatico, in modo che delle parti che abbiamo poi girato in bianco e nero nel montaggio si inserissero con più morbidezza, non ci fosse questo salto tra l'immagine a colori e l'immagine bianco e nero. Quindi chiaramente questo discorso ha investito tutti i reparti, la scenografia, l'arredamento e i costumi, quindi sono tenuti su toni neutri. E poi la possibilità di modificare la luce all'interno di una sequenza, di un piano sequenza. Poi vediamo proprio un piano sequenza dove c'è questa cosa che noi chiamiamo luce dinamica, questa possibilità di modificare la luce all'interno di una sequenza e le modifiche della luce, se all'inizio vedrete, sono solo legate alle azioni dei personaggi, quindi l'attore spegne la luce, apre una finestra, poi a un certo punto in poi la luce si modifica senza nessun motivo. Però queste modificazioni fanno sì che noi possiamo entrare in una dimensione onirica, una dimensione di sogno, per cui quando da un certo punto della scena entra un cane dalla porta del bagno, non è che diciamo si sono impiazziti, ma siamo entrati, ecco il cane l'abbiamo già visto in un flashback, sappiamo che è un cane che sta in Russia con la sua famiglia e quindi però in quel momento dal punto di vista drammaturgico è accettato questo cane che entra. Quindi noi siamo già, questi accambiamenti di luce hanno prodotto una modifica della situazione reale. Queste sono le uniche due cose che mi ha detto Andrei, dopo che mi ha lasciato assolutamente libero di fare il mio lavoro. Chiaramente ogni proiezione ha un esame, l'ho vissuto con molta trepidazione, tutta la proiezione, però insomma devo dire che poi alla fine il risultato è stato buono e tra l'altro Tarkowski nei suoi diari parla che ho fatto un buon lavoro. diciamo che... Quindi ritornando alla capacità di un direttore della forafia è quella di entrare più profondamente nel film, diciamo prima, quindi di andare molto al di là delle parole, no? Delle volte i registi dicono delle cose che non hanno un legame tecnico preciso, sono più sensazioni forse, poi devo dire è difficile descrivere un'emozione, no? Quindi bisogna... Una volta in un piccolo festival un regista iraniano parlava che cercava di trasmettere le emozioni che gli dava una musica, quindi insomma capite che è molto complicato, no? Però se uno entra veramente nel film, delle volte si fanno delle scelte che non sono neanche consapevoli, non c'è un ragionamento, uno si deve lasciare un po' andare, fa delle scelte che poi funzionano, vuol dire che uno è entrato veramente... Per esempio nel mio primo film c'era una scena con le candele, una scena, io quindi il mio primo film ero così un po' come dire... e questo regista dico, Umberto, facciamo questa scena con le candele e la luce la facciamo calda? Ah sì calda! Poi ci ha pensato e dice sì, va bene calda ma triste, quindi chiaramente è interpretare questa piccola indicazione, cioè non è così semplice, però poi viene, si riesce ad arrivare. L'abbiamo detto che chiaramente la formazione personale penso che sia utile, io ho fatto una scuola dove facevo fotografia e studiavo storia dell'arte, no? Quindi veramente una, come posso dire, una base che appunto fa arrivare a delle scelte che non sono consapevole, no? A volte mi hanno detto, ah questo sembrava casorati, mi hanno detto un regista, no? Ma io praticamente non ci avevo neanche pensato, no? Però evidentemente escono fuori delle cose che fanno parte del proprio bagaglio. Chiaramente prima di iniziare il film, no? Quindi c'è una connessione con i reparti, soprattutto di scenografie e costumi, sui colori, sul tipo di arredamento, sul... per esempio nel film di Tarcosi, per ritornare al film che parlavamo c'era un... Tarcosi piacevano le pareti che avessero dei volumi, quindi non sono lisci. Questa stanza che vedremo è costruita in albergo, è così tentato di posa e la parete non è liscia ma piena di asperità. Allora nel disegno originale c'era solo una finestra di fondo. Allora io ho detto allo scenauro, guarda se tu mi apri una finestra laterale io posso dare una luce radente che fa, che valorizza questa... per cui questo è stato il lavoro fatto... quindi poi vedrete tutti i colori sono neutro, grigi, neri, bianchi. È molto interessante per capire bene il film anche il lavoro che il regista fa con gli attori. Cioè quando il regista spiega agli attori la scena, la scena che deve... che dovranno poi interpretare, arriva a delle puntualizzazioni, a delle spiegazioni abbastanza interessanti proprio per comprendere il significato del film. E questo io penso per me, per la mente era molto utile. Allora parliamo di quello che si chiama lo stile, lo stile di un direttore di fotografia. Ci sono dei colleghi che fanno, che hanno un proprio stile e cercano di... non dico di imporlo, ma insomma in ogni film si riconosce chiaramente la matrice dell'autore della fotografia. Io penso che questo non sia corretto, nel senso che ogni... anche se uno ha un modo di lavorare sicuramente, no? Però ogni film deve avere la sua luce, la luce giusta per la storia che dobbiamo raccontare. Io ho avuto la fortuna di lavorare come assistente contro uno dei ricolli, che ritengo il nostro di fotografia più bravo del dopo guerra, a parte forse Gianni di Venanzo. E Tonino, se uno guarda la sua filmografia, ha fatto sempre fotografie completamente diverse, passando da Pasolini a Leone, da Luis Mal a Fellini, cioè insomma che ha fatto sempre dei film completamente differenti. Però diciamo, siccome comunque bisogna darsi delle regole, fare delle scelte, diciamo che io penso che il nostro lavoro non debba far vedere l'artificio, quindi la luce deve essere più naturale possibile. Quindi diciamo, partiamo sempre dal reale, dalle fonti di luce esistenti, però cerchiamo di fare una luce invisibile, però questa luce io la preferisco sempre dalla di taglio, no? Perché è una luce di taglio che crea dei volumi, che crea la terza dimensione. E poi rispettiamo gli ambienti, nel senso se un ambiente viene scelto, proposto dallo scenografo e poi scelto da regista per raccontare una storia, evidentemente quell'ambiente ha una sua personalità, diciamo, e quindi con la luce non dobbiamo snaturarlo, no? Dobbiamo comunque rispettare questa personalità dell'ambiente. E poi un grande rispetto per gli attori, cioè gli attori mi oppongono al proprio viso di fronte alla macchina per essere il mezzo che veicola le emozioni. E quindi ho sempre fatto un grandissimo rispetto dei volti degli attori e in più la luce può aiutare la recitazione, quindi ha anche una funzione drammaturgica, a sicuramente come è posta la luce, un viso può essere più o meno drammatico, meno forte. Una battuta che entra in ombra con l'attore che poi avanza e prende la luce e rafforza la seconda parte della battuta, quindi sono degli spedienti, chiamiamo di luce, che possono sicuramente aiutare la recitazione. Invece parlando della luce possiamo dire che in ogni volume di fotografia si parla sempre delle luci, tre luci che sono indispensabili per fare una fotografia che è la luce chiave, la luce di riempimento e il controluce. Io ritengo che sia una determinazione scorretta, nel senso che l'unica luce veramente indispensabile è la luce chiave, quella luce che dà, è lei che dà l'atmosfera alla scena e serve proprio per illuminarla. Possiamo fare un primo contributo se vediamo, il quadro più semplificativo che ho trovato è l'evocazione di San Matteo di Caravaggio, se no possiamo vederla, voi vedete che la luce, qui c'è una luce di taglio che viene da una finestra fuoricampo, se noi dovessimo riprodurre fotograficamente questa situazione abbiamo una luce che colpisce i personaggi con una luce abbastanza violenta di taglio, quindi è una luce che crea già dei volumi dei loro corpi. E una seconda luce, cioè una seconda luce, se io parlo come se dovessi illuminare io la scena, che illumina la parete di fondo. E vedete che la cosa interessante è che la linea della luce che va sulla parete, questa linea che fa una parte luce e una parte nera, che nel quadro è completamente nera, la parte sotto, fa sì che i personaggi che sono illuminati con la luce di taglio si stagliano completamente rispetto al fondo, cioè questa accortezza di contrapporre una parte illuminata e una parte buia fa uscire i personaggi dal fondo e crea appunto la terza dimensione. Quindi la fotografia, ritornando a noi, la fotografia è sempre interessante quando c'è un gioco proprio fra quello che è in primo piano e quello che è dietro, questa è la parte interessante della fotografia. La seconda luce che possiamo vedere nei quali di Vermeer, vediamo il secondo contributo, vedrete che non ci sono più i neri. La luce di taglio, c'è sempre la luce di taglio che viene dalla finestra, però è una luce molto più morbida, chiaramente un pittore del nord Europa, qui c'è una luce che diciamo fotograficamente potrebbe essere una luce riflessa. Questa luce che viene comunque dalla finestra nella sua direzione è ammorbidita da una luce cosiddetta di riempimento, cioè non abbiamo parti completamente nere, ma possiamo leggere ogni particolare, anche ovviamente se c'è una differenza di contrasto fra la luce chiave e la luce di riempimento. La luce di riempimento, vediamo anche l'altro quadro, sono abbastanza simili sia la lattaglia che il bicchiere di vino, e possiamo riaccendere. L'atomosfera è determinata chiaramente dal rapporto fra queste due luci, la luce di chiave e la luce di riempimento. Il rapporto fra queste due luci si chiama fattore di contrasto, e quindi diciamo fotograficamente all'interno di una sequenza noi cerchiamo di mantenere questo rapporto costante, in modo che ci sia una continuità fotografica. Quindi, quello che abbiamo visto nel quadro è quello che ho sempre cercato di fare nelle mie illuminazioni, creare sempre una luce che disegna la profondità allo spazio. Il personaggio non è mai piatto, ma appartiene a questo spazio. Io penso che illuminare sia un fatto creativo, un fatto che sia da un punto di vista estetico che di significato. Posizionare quando si posizionano la luce succede qualcosa, qualcosa che a me dà un'emozione, questa emozione io cerco di darla attraverso le mie immagini, quindi c'è un contributo creativo sicuramente. Vorrei ricordare le parole che Peppino Impastato ci ha lasciato in eredità. Peppino Impastato era un giornalista, anche poeta e scrittore, che è stato ucciso appena trentenne dalla mafia cinese nel 1978. È stato ricordato nel film I cento passi di Marco Toglio Giordano. Le sue parole sono Se si disegnasse la bellezza, si darebbe alla gente un'arma in più contro la paura e l'omertà. Questo per me significa che noi le cose dobbiamo fare bene, non dobbiamo fare delle immagini shot, tanto va bene tutto. Noi dobbiamo lavorare sempre al meglio e cercare quindi di fare delle immagini armoniche, sia nella composizione che nelle illuminazioni e funzionali racconti. Rafforza questo discorso sulla bellezza. Una testimonianza che è Marco Bellocchio, regista con cui ho lavorato di più, ho fatto 12 film più il saggio di diploma al centro sperimentale. Una testimonianza che ha fatto su questo libro che è uscito l'anno scorso, che è una lunga conversazione. E Marco dice, parlando di me, sul suo lavoro di direttore, quello ricordo è che aveva una capacità specifica, particolare per i volti femminili, una cura non separata dall'insieme della sua visione. Non si preoccupava, certo, di rendere più bella una donna, ma di fatto ci riusciva, nel senso che era in grado di incogliere la luminosità, piuttosto che nascondere nei difetti. Rispettando il volto, aveva la qualità e il dono di illuminare come se non riuscisse a filmare che la bellezza. Quindi penso che è un valore che va, come posso dire, che io devo trasmettere. Un'altra dote, diciamo, di cui abbiamo accennato è la dutilità, cioè questa capacità di sapersi adattare a qualsiasi tipo di film che dobbiamo raccontare. Non a caso ho scelto scene di due registi assolutamente opposti, non Nanni Moretti e Andrei Tarkovski. Con Nanni ho fatto quattro film, da Palombella, Carodiari, Aprile e La stanza del figlio. Il primo incontro con Nanni è stato non pensare di fare un film di Tarkovski. Non ti preoccupare, non ci penso assolutamente, ma chiaramente nel film di Nanni la luce ha una funzione più di supporto, non ha una funzione, poi è chiaro che si esprime con le immagini, per cui certe cose vengono comunque fuori, ma comunque sicuramente nei suoi film è la parola più importante, quindi noi ci abbiamo adeguare e riuscire a dare le immagini. Noi possiamo vedere adesso una scena, una piccola scena di Carodiario, tratto dal secondo capitolo Isole, una scena in un bar dove la luce è assolutamente naturale, la luce c'è, la mia luce, però ho cercato di mettere la luce in modo che sembrasse che noi avremmo girato solamente con la luce che veniva dalla porta del bar, la luce del... è una piccola... vediamola pure... una spremuta d'arancia e un panino... un panino... mozzarella e pomodoro, grazie. un panino... un panino... Now viene Negro Godot ballando Agrego, vai un fünf,詞. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' come tutti i film che ho fatto con... l'unico forse che sembra un po' più costruito è Palombella Rossa ma lì era proprio l'ambiente, questa piscina tutta... quindi l'acqua poi circondata da cose di coloro azzurro. Quindi quella dava un tono particolare ma è più un lavoro di scenografia in un certo senso. Invece parlando di... ritornando a Tarkovsky, qui sono alcune sequenze, due sequenze di nostalgia. C'è l'alba che inizia il film. C'è l'alba che è la prima inquadratura del film. Un'alba vera, quindi girata appena la luce... Il mio esposimetro aveva qualche sussulto, quindi abbiamo cominciato a girare. C'è un'apertura dal fondo in... in apertura dal nero alla scena fatta in ripresa con il diaframma. Il film ha avuto, come le cose che ho detto prima, più c'è stata una stampa particolare che si chiama ENR, che è un procedimento chimico fatto sul positivo, quindi il negativo è assolutamente normale, sul positivo in modo che sull'immagine a colori rimane una parte di argento, che altrimenti sarebbe sciolto nel fissaggio. Quindi questa parte di argento vuol dire che è un'immagine bianca e nero che si va a sovrapporre all'immagine a colori. Questa dà come effetto un aumento dei contrasti, un nero molto più profondo e una leggera saturazione. Tutte cose che andavano nella direzione che voleva Tarkovsky. Adesso diciamo che... sicuramente non pensavo a queste parole che adesso vi leggo, tratte dal capoliero inesistente di Calvino, ma sicuramente la descrizione dell'alba che fa Calvino sembra scritta dopo aver visto questa inquadratura. che dice quella particolare ora in cui le cose perdono la consistenza d'ombra, che le ha accompagnate nella notte e riacquistano a poco a poco i colori, ma intanto attraversano un limbo incerto, appena sfiorate e quasi allonate dalla luce, l'ora in cui meno si è sicuri dell'esistenza del mondo. Adesso possiamo vedere questa prima sequenza. La nebbia è tutta artificiale, è fatta da noi. E quindi... C'è qui, no, c'è luce, chiaramente la luce dell'alba. Possiamo vedere questa sequenza. Grazie. 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 Vedete l'immagine sembra bianco e nero, in realtà immagino a colori, nella copia si vede il primo colore che si percepisce bene a questo rosso dei fanalini dallo stop, essendo una vera alba e piano piano la luce aumenta in modo assolutamente naturale. La macchina era stata scelta nera apposta chiaramente, una macchina nera, piano piano diventa giorno, prendetelo, poi nella seconda quadruca siamo all'interno di una chiesa. E c'è un movimento che lascerà la macchina e vediamo in lontananza quella che non è alla chiesa, ma insomma quella che potrebbe essere la chiesa. Grazie. 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 I due personaggi vanno in un albergo e la sequenza che vediamo dopo è lui che entra, il protagonista, l'attore russo Oleg Jankowski, entra in questa stanza e fa una serie di azioni che vediamo nella scena. La scena è stata registrata volutamente muta per poter poi parlare durante e spiegare meglio. Comunque, fra le immagini che noi vediamo è la realtà, cioè la realtà per me è la copia in pellicola, chiaramente che il film è stato pensato e girato in pellicola, quindi chiaramente se qualcuno mi può interessare, vederlo. Il 10 aprile io proietto la nostra alchia in pellicola per un laboratorio che faccio per degli esterni, non per i ragazzi della scuola ma per gli esterni, quindi alle 9 di mattina se qualcuno vuole vedere, poi magari se mi fate avere i nomi, io li do all'ingresso, insomma alla vigilanza per poter accedere. Comunque vederlo in pellicola è completamente differente. Allora, vediamo la seconda, questa seconda scena, possiamo vederla. Vedete, in questa... può andare avanti, eh? Vedete, c'è una luce al bagno accesa, non sappiamo, è una luce sul comodino. C'è una finestra a sinistra dove entra una luce che va sul letto e si sente che piove, vedete l'effetto della pioggia. Lui ha spento due luci e apre la finestrella, le persiane che danno su un cortile, un ipotetico cortile. Sta piovendo, fra un po', se voi fate caso, c'è l'intonaco del cortile che si stacca per la pioggia. E' stato assolutamente casuale, ma tal cosa che ha scelto poi in montaggio questa scena, proprio perché si... c'era questo elemento che gli interessava molto, dava un po' più di verità, come posso dire. Adesso, vedete l'impianto di illuminazione, no? C'è una luce che dalla finestra di sinistra, dal cortiletto entra della luce più morbida e poi c'è una luce che esce dal bagno, come se ci fosse anche lì una finestra. Adesso si è spenta la prima luce, adesso senza nessun motivo, no? La luce che andava sul letto si è spenta e noi percepiamo comunque ancora le azioni... E' anche troppo luminoso forse lì, vediamo le azioni dell'attore, del personaggio. E' anche il personaggio. Ecco, ora c'è un carrello, un carrello unito a uno zoom, che da questo totale fa... arriveremo al primo piano dell'attore che si sdraia sul letto, poi. Eh, ecco il cane, il cane che vi aveva annunciato, e noi abbiamo visto già uno flashback precedente della casa di Tarkovsky, una Dacia in Russia, insieme ai figli. Qui, per parlare la muta, ma nei suoni, la colonna degli effetti in Tarkovsky è sempre estremamente interessante. Vedete, la macchina si avvicina e esclude la fonte di luce del bagno. E un attimo prima che escluda anche la finestra del cortile si accende una luce che va sulla parete di fondo. che ci fa vedere meglio il personaggio che si è sdraiato. La macchina stringe sul primo piano dell'attore, e poi ritornerà alla luce, la prima luce che si è spenta. e smette, e termina la pioggia. Questo è un giorno di lavoro, però insomma eravamo ben soddisfatti. Pensate che allora non c'erano i video control, perché ho fatto tutto a occhio sui tempi. e quindi diciamo che quando si andava in proiezione con i giornalieri, insomma, lì veramente vedevi il film. Infatti la funzione dell'operatore di macchina, prima che arrivasse il video control, era estremamente più importante, perché era l'unica persona che vedeva esattamente quello che avveniva. Gli altri lo vedevano in proiezione. Quindi vedete la differenza assoluta che c'è fra i film di Tarkovsky e i film di Moretti. Tarkovsky mi ha chiamato dopo aver visto Salto nel Voto di Bellocchio. Allora, chiaramente Marco da un punto di vista illuminazione ha dei punti di contatto, no, anche se è un cinema assolutamente diverso, però ha dei punti di contatto con i film di Tarkovsky. Infatti Tarkovsky nei diari diceva, ho visto il film di Bellocchio, un po' cerebrale, la fotografia di Beppe Lanci e non male, che è stato il motivo per cui mi ha chiamato per fare questo film. Allora, poi possiamo parlare un po' di quello che è oggi il digitale in Italia. Improvvisamente, da quando le proiezioni per legge europea sono tra un paio d'anni, no? Tutti i film proiettano il digitale. Però come produzione da noi c'è stato proprio un taglio netto, improvvisamente si gira in digitale. Questo ha portato poi anche alla chiusura dei laboratori di sviluppo stampo. Prima la Tecnicolor, poi il Cinecittà, che erano i due più importanti, ma poi hanno seguito altri laboratori minori. Per cui in questo momento ce n'è uno solo che sviluppa la pellicola e Cinecittà sembra che riapra. Poi vi dico perché, perché nel restauro dei film sembra che la cosa poi alla fine, che dà più garanzie, è stampare alla fine una copia in compositivo pellicola, che è molto più sicuro degli hard disk, perché nessuno sa quanto durano. A parte sono fragili, però nessuno può assicurare la durata. E allora c'è la cosa... Un film è girato in digitale, poi si fa il trasferimento e si stampa in pellicola. Da noi è stata una cosa traumatica, ma quasi improvvisa. Mentre invece in paesi, la Francia, ma soprattutto negli Stati Uniti, si seguono a girare ancora molti film in pellicola. L'anno scorso c'è stato un accordo fra i maggiori produttori cinematografici e invece la Kodak, perché la Kodak aveva minacciato la chiusura del reparto cinematografico e invece hanno fatto un accordo per stampare un numero, un migliaia e migliaia di metri negativo che assicurasse alla Kodak di poter continuare a produrre. E tanti film vengono girati in pellicola. È chiaro che la fruizione è comunque in digitale, però si parte da un negativo che dà comunque più informazioni di quanto possa dare un sensore digitale. E poi si fa un passaggio, si chiama DI, un trasferimento su un'immagine digitale e poi si avviene tutta la lavorazione della post-produzione su questo materiale. Io penso che per noi sia stata una perdita. una perdita perché noi la usiamo qui in Italia sempre dal modo... le innovazioni sono sempre usate dal modo peggiore. Cioè lavorare con digitale ha dato l'impressione soprattutto a alcuni produttori che si possa girare sempre e comunque, dimenticando che tutto quello che abbiamo detto prima vale per qualsiasi supporto noi usiamo, quindi c'è sempre una funzione creativa della luce. se noi giriamo sempre con quello che troviamo facciamo dell'attualità, non facciamo più cinema. Quindi da un lato c'è stata questa, come posso dire, questa spinta per risparmiare, di comprimere sempre più i tempi dei film. le riprese sono... adesso oggi parlare di un film di sette settimane... ieri proprio un collega mi ha detto ah, faccio un film di sette settimane, è un film lungo. una volta sette settimane era un film... già che insomma stavi, no? si parlava da dieci in su, dieci, dodici, per fare un film ben fatto. questo è durato nove settimane questo di Tarkovsky. è stato possibile perché sono tanti piani sequenza, quindi per esempio la scena che avete visto è un giorno di lavoro, ma sono otto minuti di film, quindi questo significa che come minutaggio anche in pochi giorni per un film di questa fattura, poi il film è di due ore, due ore e un minuto, quindi questo va considerato contro i film di un'ora e quaranta, un'ora e mezza. Io penso che noi siamo passati da una lavorazione più artigianale che era un po' la prerogativa del cinema, dove si risolveva tutto in ripresa, qualsiasi problema c'era, c'erano anche delle maestranze capaci di risolvere una serie di problemi in ripresa e si cercava di fare quello che voleva il regista, cioè per raggiungere un risultato, quindi c'era proprio una collaborazione molto forte nella troupe e si cercava di fare tutto in ripresa, mentre adesso si affida molto, ci pensiamo dopo, lo facciamo dopo. questo secondo me porta a una, come posso dire, le immagini sono meno meditate, si sente spesso il regista a dire facciamo una prova girata, le prove girate non hanno senso, comunque tu stai girando, poi magari la utilizzi. la prova a che serviva? Con la pellicola l'abitudine c'era per forza, non voleva sprecarla la pellicola, la pellicola aveva un costo, quindi facciamo la prova e quando siamo abbastanza sicuri di come giriamo. E questo non è che era solo, diciamo, per l'operatore di macchina per il movimento, ma era per tutto, era per i tempi, i tempi di recitazione, i tempi delle azioni, di tutto quello che si svolgeva nella scena, quindi c'era la possibilità di correggere e di arrivare al girare quando si stava già vicino, tra virgolette, alla perfezione. Adesso si va avanti, giriamo, 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 tanto non costa niente, poi in realtà poi costa anche quello, per i trasferimenti costa anche quello, però comunque non c'è più questa attenzione, lo posso dire, a cercare di provare la scena finché si raggiunge il risultato ottimale. Un'altra cosa strana è che i registi che prima erano incollati alla macchina della presa, cioè io ho fatto due film con la Vertemull, e poi ce l'avevo quasi addosso, doveva stare lì, doveva vivere il movimento della macchina, stare vicino al più possibile e stare vicino agli attori. adesso succede che gli attori recitano e il regista non c'è, sta a venti metri sotto una capanna nera davanti a un monitor, e quindi non c'è più quel rapporto diretto umano durante la ripresa, invece secondo me gli attori hanno bisogno di sentire proprio fisicamente la presenza del regista. Quindi ho l'impressione che sotto questa, una volta diciamo, era molto più complesso esordire. io ho fatto la mia, anche se ho fatto la scuola, ho fatto poco l'assistente, fortunatamente con degli colli, poi ho fatto otto anni di operatore di macchina, che secondo me era un lavoro molto bello, e poi ho cominciato la mia 35 anni, ho cominciato a fare la fotografia, perché ho cominciato abbastanza giovane, ma era molto difficile esordire, perché il produttore, il produttore era il primo che non voleva un giovane, ma non lo voleva perché dice io investo dei soldi e voglio dei professionisti che mi tieno delle garanzie. Adesso è esattamente il contrario. Tu sei professionista, no scherzo, però comunque adesso è molto più facile per i giovani esordire, perché appunto ho l'impressione che il mezzo digitale sia estremamente accessibile a tutti. Però io penso che il pericolo è che ci sono delle, io vedo dei film, a parte c'è una omologazione dell'immagine, si vedono dei film abbastanza identici, questo perché si sfrutta la luce ambiente, noi veniamo qua e giriamo con questa luce, non c'è un discorso se questa luce è giusta o è sbagliata per la storia, per la scena che dobbiamo rappresentare, e noi giriamo con questa luce perché facciamo prima. Quindi ci sono dei colleghi che hanno fatto dei film dove una parte del film è buona, perché hanno incontrato una luce naturale estremamente interessante, e poi ci sono delle scene dove sono stati costretti a mettere la luce che si vede che non la sanno mettere, perché non hanno nessun background, nessun background, purtroppo delle volte anche culturale o estetico, e non sanno assolutamente mai riporare la luce, quindi si creano dei personaggi che se li porti in teatro di posa, come adesso sta tornando il teatro di posa, ma soprattutto per le serie televisive, siccome sono quasi più serie che film, sta tornando per le serie televisive e tanti girano in teatro di posa, quindi girare in teatro di posa significa saper mettere la luce. Poi se c'è una luce buona, perché io sono il primo di camere allievi, se c'è una bella luce è assurdo non sfruttarla, ma bisogna pensare se quella luce è giusta, infatti si sta perdendo un po' anche la continuità fotografica di un film, si vedono delle scene che sono tra virgolette una bella, una brutta, una così così, ma non raccontano una scelta fotografica del film. Quindi io penso che comunque qualsiasi mezzo che noi usiamo per raccontare come mettiamo la luce è estremamente importante, perché è quello che dà il segno alla scena che rappresentiamo. Adesso sono tornato, come ha detto la nostra Presidente, in segno accetto sperimentale, sono responsabile della fotografia, io sono arrivato a scuola che non c'era stato il passaggio al digitale, ancora si lavorava quasi esclusivamente con la pellicola, per carità un mezzo molto formativo, assolutamente molto formativo, ma non... poi questi ragazzi si trovavano spaisati quando uscivano, perché si trovano a lavorare con dei mezzi di cui non conoscevano, per cui ci siamo impegnati a fare dei percorsi invece che potessero fargli conoscere tutti i segreti del digitale, e nel contempo cerchiamo di fare qualche esercitazione anche in pellicola, che comunque è molto formativa, perché è abito a guardare, a guardare direttamente, senza altro... un mezzo come un monitor che poi non sempre è fedele rispetto all'immagine fotografica. e niente... quindi sono tornato a lavorare, da dove sono partito, ho fatto 40 e 50 anni di Cino, e l'avevo già cominciato a insegnare, casualmente, perché ero 84, 85, proprio dal centro studentale, mi hanno chiamato per sostituire Carlo Di Palma, che partiva per la... per il suo avventura con Woody Allen, e all'improvviso mi sono trovato... ho fatto un anno circa, e ho diplomato alcuni ottimi dirittura, quindi sono... che sono molto soddisfatto. E niente... ho scritto due righe, vi leggo come chiusura di questo mio intervento. Ora insegno nella Scuola Nazionale di Cinema, dove mi sono formato, e voglio insegnare la bellezza, la differenza che passa fra delle immagini scelte e senza anima, non pensate, e delle immagini ben illuminate e armoniche, che hanno un significato, create con amore e passione. Grazie.